Due squadre che volano oltre gli 85 punti di media partita sono i presupposti di un gran match questo della palla leonessa Brescia per la non aggiornata in Serie A Nupol 6 23-24 tra Germani Brescia e Open John Metis Faresi In termini di oggi è un team molto fisico che gioca molto che è davvero buono, credo che è uno dei migliori team della Liga e dovremo provare a matchare la loro fisicalità ma non cambiare la forma che giochiamo al stesso tempo Dovremmo fronteggiare questa nuova filosofia e approccio al gioco, tanti tiri da tre punti gioco in velocità, dovremmo cercare di non cadere nel loro tranello e non seguirli in questo ritmo cercare di giocare sui nostri punti di forza Si va, palla a due, primo pallone Mentre prova Haaland, subito risponde, i primi cinque punti sono suoi Nella valle, per il tiro da tre E contro uno per Brescia, no look di Milan, per la schiacciata di Gabriel Cristo dall'altra parte, arriva ancora Gabriel Altra affondata, per il contropiede con schiacciata di Gabriel Barnella, stavolta c'è Oliver Allen su di lui Si alza C.C.J. Massimburg per altri tre punti E allora ci prova anche Achele da tre Molestani va fino in fondo Va lui a schiacciare, prende anche il pallo Si appoggia a Cobins, Della valle, per il tiro da tre Non sbaglia Della valle Sono ancora 30 punti di differenza Quinto punto per Brown Al suo secondo tentativo da tre Con canestro Alzata e schiacciata Di Della valle per Cobins Dobbiamo che giocare al loro ritmo non ci dà vantaggi Quindi siamo aperti forte in difesa E stiamo facendo bene Loro non hanno fatto tanto canestro Noi abbiamo fatto tanto canestro Dobbiamo continuare così Poi il taglio di Della valle Tiro in reversa Allen prova ad attaccare Gabriel Ed è bravo perché Riprende il controllo del corpo In una frazione di secondo Per il sottomano Massimburg prova ad attaccare Saida per Milan E allora Brescia recupera un altro pallone Achele qualche difficoltà A controllare Poi anche lui vede con la colla dell'occhio Il taglio di Milan Achele che va di mano sinistra Sbaglia Poi arriva la schiacciata al golo di Cobins Prova il consegnato per Woldetensai Poi serve Allen Massimburg si ferma per il tiro da tre A canestro 103 a 54 49 punti Poi arriva Alla alla portale di blocco Riceve cambio difensivo Daffoglio va sul statunitense che si alza Tira in sospensione Nonostante la serataccia Nonostante la serataccia La sua parte l'ha fatta Zao per il tiro da tre A bersaglio Panella consegnata per Porto Prova a rispondere al suo giocatore della parte opposta Lo fa con una tabellata da tre punti Finisce 116 a 73 Ovviamente Il punteggio non lascia spazio a nessuna considerazione La sua parte l'ha fatta Si, played great From the first second basically We knew the plan What we need to do on the court Everybody was doing What they need to do And in the end We deserve to win But as Today play really bad